applauso perché tra poco mi raggiungerà qui sul fan box che fungerà per qualche istante da palco di presentazione eccolo qui che ci ha raggiunto quindi ragazzi fatemi sentire le mani la voce l'applauso per Foglius Lacatusu, Cristian Falvo, potenza di Ale Barbero tu pensi di riuscire a saltarli tra i bambini messi così? devo solo saltarli? certo nel tuo lavoro la tua vita è saltare quindi insomma pensi che sia fattibile lo facciamo dai tutti insieme no non ci siamo Ale io intendevo saltarli in bici con la bici certo tu scusami quando usi le rampe lo fai a piedi o lo fai con la bici? ma ma perché? più chiaro di così tu devi saltarli restando sulla bici attenzione tutti insieme oh yes! ah finalmente ok voilà perfetto Ale sono quattro e il sei! è bastato anche lo step dei quattro ma ce l'abbiamo ricordi che sono cinque quindi uno in più rispetto a prima io mi rimetto il disparte e noi siamo pronti per osservare anche questo passaggio in compagnia chiaramente di Ale Salvo Barbero ci siamo ragazzi già sapete come funziona pronti ad accompagnarlo a livello vocale vai oh yes! va bene visto che è a tanto margine si vieni stavolta di tutta va là attenzione lì ragazzi attenzione arriva subito ciao! 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 tra poco chiamerò qualcuno dal pubblico, possibilmente adulto, quindi tra poco magari chi ha piacere di venire qui mi alza la mano e tu proverai a saltare il povero disgraziato che finirà qui con la bici inserà la bici da questa rampa qui passiamo all'atterraggio qui senza toccare in nessun modo la persona saluta qui ok? questo film si è vera, no lo ha fatto veramente? si va bene! hai fatto veramente! no no ragazzi... ora tu sai che sei comodo? più o meno! ok, va bene Ale... ascoltami... siamo lì giusto tempo... Chia! Noi ridiamo e scattiamo... Ma comunque qua... si fa sul setore! Quindi ragazzi diamo anche il giusto tempo al nostro Ale Barbero per caricarsi, insomma, per... Ok, ascolta, lui è già seduto, è già comodo. Vuoi vedere un attimino il posizionamento della seduta? Ok, diamo di quello qualche minuto. Ale, io ti ricordo una cosa. Prima che tu prenda il via, ricordati chi c'è qua. Ma, dico solo questo, pensa al casco, che è un segno in più che ti dice non fare cazzate, ok? Questo qui è il messaggio straordinario che dovrebbe arrivarti. No, non sbagliare, ti prego, ti prego. Ti prego non sbagliare, non devi. Sbagliare è umano ma tu non puoi. Ecco, hai capito come funziona qui. Ragazzi, nuovamente, tutti insieme, fuori la voce per Alessandro Barbero, l'applauso! Yes! Ehi, addirittura, applauso, addirittura, in backflip. Ragazzi, e allora, ci facciamo sentire tutti insieme, fuori la voce per Alessandro Barbero! Allora, ci facciamo sentire tutti insieme! Allora, ci facciamo sentire tutti insieme, fuori la voce per Alessandro Barbero! Allora, ci facciamo sentire tutti insieme, fuori la voce per Alessandro Barbero! Allora, ci facciamo sentire tutti insieme, fuori la voce per Alessandro Barbero! Allora, ci facciamo sentire tutti insieme, fuori la voce per Alessandro Barbero!